Tante famiglie, tanti bambini e tanta voglia di divertirsi e di fare festa fra musiche e colori. Sono stati un migliaio circa i ravennati che hanno partecipato alla Color for Fun e che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio e la serata di venerdì in zona d'Arsena. Un pubblico variegato che ha visto tra i tanti partecipanti anche diversi giocatori dell'Orasi Basket a Ravenna e degli assessori del comune Giacomo Costantini e Roberto Fagnani. Il cielo e l'asfalto della d'Arsena di Ravenna si è colorato di blu, giallo, verde, rosso, azzurro e di tutti i colori in polvere, rigorosamente tossici, che i partecipanti alla Color for Fun si sono lanciati per rendere l'ambiente e il clima della manifestazione il più possibile originale e spassoso. Guidati da DJ e vocalisti e partecipanti a questa prima edizione di Color for Fun hanno ballato e cantato prima di partire per un percorso di poco più di 4 chilometri attorno al braccio più interno del candiano. Un percorso arricchito da punti colore, dove tutti sono stati travolti da cascate di polvere colorata e da punti musica per una festa senza fine. E dopo la corsa la festa è proseguita all'interno della d'Arsena Pop Up animando tutti i locali al suo interno e coinvolgendo le tante famiglie della Color for Fun.